Andiamo al segno dei gemelli, luna meravigliosa, questa che transita nel segno della bilancia. Devo dire che questa è una giornata che può portare delle novità inaspettate per il vostro amore, per i sentimenti, ma questa è una giornata in cui voi vi sentirete bene, disponibili nei confronti degli altri, e poi la fortuna sarà sempre dalla vostra parte in questa giornata, e quindi anche problemi che sembravano irrisolvibili possono alla fine trovare una soluzione proprio grazie all'intervento della Dea Bendata.